E' tempo di zucca ed ecco i dolcetti alla zucca più soffici e golosi mai fatti si sciolgono letteralmente in bocca e sono senza latte, senza burro e vengono top anche senza glutine In un mixer frulliamo la zucca cruda tagliata a cubetti con l'olio di semi fino ad ottenere una bella cremina arancione volendo possiamo sostituire la zucca con pari peso di carote ed ecco la cremina pronta In una ciotola montiamo le uova con lo zucchero io ho utilizzato quello integrale ma va benissimo anche il classico montiamo bene per circa 4 minuti fino ad avere un composto gonfio e spumoso uniamo la porea di zucca, la farina setacciata ed il lievito una breve mescolata per incorporare la farina ed ecco l'impasto pronto possiamo lasciarlo neutro oppure per rendere il tutto più goloso lo dividiamo in due ciotole ad uno uniamo il cioccolato e all'altro frutta secca o metà mela a cubetti dividiamo il composto in stampini imbusati ed infarinati con queste dosi vengono 18 dolcetti utilizzando uno stampo come il mio oppure una torta da 20 cm o circa 12 muffin via in forno e dopo 18 minuti eccoli pronti sformiamo e gustiamoli in tutta la loro morbidezza sono buonissimi e piacciono tanto anche a chi non ama la zucca salvate subito la ricetta e sono certa che li amerete